Una giornata di ricerche ininterrotte per un sommozzatore che risulta disperso nelle acque del lago d'Orta. L'uomo questa mattina stava effettuando un'immersione insieme ad alcuni amici nello specchio di lago davanti al porticciolo di Oira nel comune di Nonio, quando non è più riemerso. Sono stati gli amici a dare l'allarme, immediatamente sono scattate le ricerche. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbagna con i volontari del distaccamento di Omenia. Nel pomeriggio poi le ricerche si sono concentrate in profondità nel punto esatto in cui l'uomo si è immerso. Sono arrivati i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori dal comando di Torino. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Omenia.